ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi vi voglio parlare di queste benedette coperture molte ne parlano sproposito molti non sanno neanche che cosa sono molti le usano e non guadagnano anzi perdono di più ma c'è una piccola percentuale e posso dire anche grazie a me che riescono a usarle e almeno a portare la partita in pareggio quindi non perdere o non vengere oggi vi voglio proprio spiegare questo come usarle e perché usarle allora partiamo dal presupposto che la copertura non è una cosa obbligatoria quindi se c'è la possibilità di usarla allora la si usa altrimenti si lascia la partita o la si lascia andare quindi o si fa cash out e si abbandona la partita o la si lascia così come e la copertura quindi che cos'è è una seconda giocata a volte anche una terza giocata che si fa per guadagnare quindi per recuperare poi il loss che si ha quindi dal guadagno che si fa tramite questa o queste coperture si deve ottenere almeno il pareggio di bilancio quindi dal perdere da una prima giocata al vincere nella seconda o anche nella terza si deve avere almeno uno zero come si fanno? ovviamente guardando la partita quindi devi comunque allenare il tuo occhio la tua mente a leggere i live della partita in maniera impeccabile devi capire se è una partita under o over prima di tutto devi capire se questa squadra può segnare se l'altra può segnare quando se c'è possibilità di entrare in base alla quota che il book in questo caso l'exchange ci offre o no ci sono tante variabili da tenere ma questo solo con l'allenamento l'esperienza e il tempo la si può avere le coperture si possono dividere in tre cioè nel mio mondo e quindi nella mia academy c'è la copertura semplice under c'è la copertura over e c'è la copertura avanzata io definisco copertura avanzata è una copertura che noi nell'academy usiamo per uscire dal match in 15 minuti massimo 20 minuti far arrivare la partita in pareggio quindi non ovviamente col gol in pareggio intendo ma in pareggio di bilancio e uscire e cambiare match queste sono le coperture che noi usiamo nell'academy ciao e al prossimo video